Non ci posso credere, hanno aggiunto il multiplayer! Ok, a fine episodio provo a fare una partita con uno online, ma prima dobbiamo vedere le nuove cose che hanno aggiunto nella campagna. Sì, questa me la ricordo, qui sotto c'è un segreto. Eccoci qua! Guardatela in tutta la sua possenza. Ora guarderò questa pietra e dovrebbe succedere qualcosa. Il portone che un tempo fu chiuso, ora fu aperto! Vaaaaaai! Bene. Oh oh oh! Le nuove unità, aiuto! Il tizio delle cartacce! Il pittore! L'uomo drago! Il prete! Il libro! Il libro! Il re! Il divino! Il clessidromade! Il non so chi cosa sei! Però ragazzi, queste sono tutte nuove unità! Ce n'è anche una con un cappello un po' moderno! Ci devo entrare? Ma io ci entro! È una nuova mappa, ma incredibile! E ci sono delle nuove unità! Cosa sono sti cosi? Cioè ragazzi, mi fanno impressione, mi fanno! No, siamo circondati da esseri divini che svollazzano col potere della fiducia! Ci hanno già ammazzato! Guarda! Non possono fare dietri i miei poveri cowboy! Mi hanno distrutto! Ok, è veramente difficile. È veramente difficile. Qua secondo me dobbiamo andare con i primitivi. Un sacco di bunga bunga! Un sacco, un sacco, ma proprio tanti! Così non sanno cosa fare, perché secondo me è il numero che fa la forza. Mettiamo tanti, tanti bunga bunga. Bunga bunga, urca, 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 urca! E allora vediamo! Ce la farete ad ammazzarli tutti? Già il primo fulmine è andato! Ma ecco che i bunga bunga stanno picchiando! Sì, ecco! Tu nella tua piccola bolla! Picchiala! La tua piccola bolla è stata spezzata! Uomo, uomo, guarda quello! Poretto! No! Urca, 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 urca! Verrai ricordato nell'urca per sempre! Però ora gli facciamo il colpo dell'urca, Beppa! Però siamo già in paradiso! Se uccido una persona in paradiso, dopo dove va a finire? È un problema questo! Vabbè, non importa! Chiediamolo ai boia! Un sacco di boia mozzatori! Mozzatori! Anche dei par... Anche dei carcerati! Poveri loro! E altri burga, burga, burga che per ora hanno funzionato! Quindi i burga, burga, burga sempre e comunque! Ok! Guarda che armata! Però state attenti alle spalle! Prendo anche un boia! Arriverò con la mia ascia! La mia ascia suona rock! La mia ascia suona... Voglio togliergli quella bolla! Sono geloso della bolla! Ah! 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 Ok, ma sono ancora vivo perché un boia è potente! Ah! Mi sono stato cacciato! Mi sono stato ricacciato in terra! Guarda dove sto finendo! Ma cosa c'è là sotto? Mi hanno rispedito sulla terra! Mannaggia! Vedete là sotto? Si cade dal paradiso e si finisce in terra! Ed è così che siamo finiti anche noi sulla terra! Ok, dai! Vediamo! Un mammut dovrebbe abbastanza fare... Lo prendo io! Putali giù tutti! Scalpestali! Scalpestali! Mentre sono tutti distratti! Non se l'aspettavano il mammut! È stato un po' difficile portarlo su con l'ascensore in paradiso! Però, ehi! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! You are being distracted! Tracted! Ok, è morto! Non è possibile! Allora, io devo sempre rullare! Questo è il mio problema! Però, ora, voglio cambiare questa cosa! Almeno per una battaglia ve la farò ASMR! Adesso andiamo a prendere un po' di scheletri! Li mettiamo così! Molto tranquillamente! Testa di candela! Funziona sempre di notte quando è buio! Metti una testa di candela e non è più buio! Wow! Bene! All'attacco! Le catapulte! Guarda le catapulte! Ti hanno spezzato gli scudi! Benissimo! Benissimo! Non facemi agitare! Non facemi agitare! Continuiamo così! Bravi, bravi! Ecco, così, così! Buttali giù! Buttali giù il trucco e buttarli giù! Sono già morti tutti! Sono già morti! Non ci posso credere! Non ci posso credere! È possibile! Per batterli, devo giocare in casa! Dovrei mettere un re e un sacco di guaritori, come al solito! Ha sempre funzionato! Funzionerà anche stavolta, no? Dai! Dai! Vita infinita! Vita infinita! Sono immortale! Sono immortale! Beccati con le spade! Buttali giù! Il problema è che avremo un attacco alle spalle tra poco! Mamma mia! Mamma mia! Non dobbiamo farci colpire! Non dobbiamo farci colpire alle spalle! Il problema è l'attacco alle spalle! Era l'attacco alle spalle! Era l'attacco alle spalle! Era l'attacco alle spalle il problema! Era quello! Però dai, ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare! Basta schivare questi cosi! Mi schivo! Mamma mia, Matrix! Sei rimasto da solo! Mamma mia! Si vincono tutte! Con il re! Eh! Adesso si sono messi a distanza di sicurezza! Si cagano addosso! E niente più attacco alle spalle! Gli è passata la voglia! Beh, io direi rimettiamo un mietitore! Anch'esso circondato da guaritori! Io non so cosa succederà! Magari anche un cavaliere! Due cavalieri! E un mietitore al centro! Easy win per me! Ora me lo guardo! Voglio vedere se ce la fanno da soli! Oh! Buttali giù! Dai mietitore! Buttali giù! Bustina Bibbi! Buttali giù! E questi cosa sono? Oh no! I signori del libro! Abbiamo evocato coloro che non dovevano! Cosa stanno facendo? Guarda! Stanno colpendo! Stanno esorcizzando il mietitore! Come osano! Però lui ha troppa energia! No! L'hanno bandito! L'hanno bandito! Sono assurdi! L'hanno bandito! L'esorcismo ha funzionato! Oh 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 oh! E poi... Mamma mia! Sto libro è esplosivo ragazzi! Ragazzi! Eh fa male! Guarda quello che si è appeso così e non cade! Vorrei dargli una mano a buttarlo giù ma non posso! Mannaggia e niente! No è già persa questa! No no no! Non voglio vedere! No ci vuole un elemento di distrazione! La biga! Esatto! La biga è molto veloce! E tanti tanti pugili! Gente veloce! Picchieri! Arcieri! Gente che lo tengano distante! Bisogna tenerli distanti la cultura! Questa è l'arma per distanziare la cultura! Parappa papappa! Nessuno si aspettava! Non cadermi! Non cadermi! Giù dal dirupo! Non farlo! Par... No! No! Roma ha parlato! Roma ha failato! Colpisci sti dannati librai! Perché l'ho mancato! No! No! Mi sono incastrato! Ok! Credo che sia fattibile! Ok! Due morti! Due morti! Devo... No! Stai lontano con quel libro! No! Mamma mia! Era 1v1! One hour later! Sì! Dopo un paio di tentativi ho capito che dovevo prendere io le rendini dell'esercito! Ma proviamo con un gigante di ghiaccio! Guardalo il mio Godzilla! Guardalo! Dimostragli! Porta tutto giù! Porta tutto giù! Devasta! Devasta! Ok! Ok dai manca poco! Mamma mia! Mamma mia! Gli ho quasi devastati! Gli ho quasi devastati e mi li porto in tomba! Me li porto in tomba! Spezza sti cosi! Oh! Ok! Ok! Bravo! Fallo volare! Ok! Ok! Quello... Quello continua a rimanermi sotto! Nei miei talloni d'Achille! No! Non nel martello! Sempre il martello nei talloni d'Achille! Oh! Bene! 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 E ovviamente ora continuano continuano a circondarmi da tutti i pori, da tutti i lati! Io vi ho detto! Mettiamo dei faraoni! E zitto! Maghi, faraoni! Guarda che epica! Guarda che epica! Che squadra epica che sto creando! Guarda! I quattro eroi dell'apocalisse! Casino fa sempre bene ho visto! Dai proviamo! Proviamo così! Vediamo che succede! Bravi! Bravi! Ecco! Sbagliate! Pensate questi qua bravissimi! Questa è easy! Questa è easy! Dai! Questa ce la possiamo fare! Se si impegnano... Dai faraone! Eh dai! Resuscita! Resuscita! Dai! Sei il fara... E cosa erano tutti... Cosa erano tutte quelle... No! Gandalf! Gandalf! Fai una magia! Gandalf! Gandalf! Fai una magia! Bravo! Bravo! Gandalf ha stirato... Birgardium le possius! Guarda! Guarda come schivo tutto! Gandalf! Vittoria! Sono tornati coloro che brandiscono il libro! Ok! Adesso voglio fare quella cosa che vi avevo detto! Voglio mettere... L'unità... Quella speciale! Ecco! Il portabandiere qua sopra! Con il portabandiere qua sopra! E tutta gente che spara! Tipo moschettieri! Io non ho idea di quello che succederà adesso! No! 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 Mi sono infigliato! No! No! Non così! No! No ragazzi! Così no! Così no! Così no! Ok! State fermi dai ragazzi! State... Come sei... Come sei morto qui? Fammi capire! La 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 la! Ok! 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 Stiamo attenti! Bravi! 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 Stanno arrivando altri libri! Stanno arrivando altri libri! Fateli fuori! Beh è stato facile! È stato facile! Abbiamo stravinto! Erano super wick agli arcieri! Qua c'è qualcosa eh! Ah ma posso prendere le cose! Posso sbloccare l'unità! Ma subito! L'architetto raggiante! Credo che questo curi le varie cose! Quindi ci sono sicuramente tutte le unità che abbiamo appena visto disseminate qui attorno! Devo solo trovare i loro segreti! Cosa stanno facendo? No! Gli architetti sono assurdi! Sono geni del male! Guarda cosa cre... No! Troppo assurdi! Fanno una roba troppo potente! Eh sono rimasto solo io qua! Con il fucile! Ok! 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 Devo star vivo! Devo star vivo! Ehm! Sparalo! Bravo! Questo è un attacco di precisione! Ok! Scappo con il fucile! Mio vecchio pistolero! Aia! 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 Donna! Ah! Dannazione! Ah! Dai! Perfetto! Perfetto! Dai! Con i pistoleri! Dai! Questi qua non possono far molto! Gli arcieri sono veramente uber OP contro tipo la gang del paradiso! Altri due livelli abbiamo vinto tutto eh! Altri due livelli me li porto a casa e li userò online sti cosi dato che li ho un po' sbloccati! Fino adesso visto che gli arcieri... Tra l'altro anche gli arcieri con il serpente erano molto OP e sono anzi molto OP! Quindi io continuo a metterli! Squadra che vince non si cambia a casa mia! Quindi io direi che a meno che alle spalle non ha nessuno beh! Mi sembra abbastanza fattibile come cosa! Potremmo anche metterci un re! Io ce lo metto un re! Dovremmo andare abbastanza bene! Il re dovrebbe resistere! Gli arcieri dovrebbero far danno! Secondo me... Vabbè c'è un altro di quei cosi! Eccolo eccolo eccolo! Vai vai di arcieri! Vai di arcieri! Buttate gli serpenti! Buttate gli serpenti! Che quelli si infiltrano! Sono molto subdoli i serpenti! Vai vai buttatelo giù! Buttatelo giù! Dai signor re! Vai! Vai! No! Oh cavolo! Cos'è diventato? Si dice voluto l'architetto si dice voluto! Oh oh oh! Scappa! Scappa! Scappa dall'architetto! Scappa dall'architetto! Scappa dall'architetto! Continuate a colpirlo! Continuate a colpirlo! Porca sozza! Porca sozza! No! Non il tuo geloraggio! Ok! Un'altra... Il tallone d'Achille! Il tallone d'Achille! Vai 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 vai! No! Si sta avvicinando! Pericolosa! Vai! Cavolo! Mi ha trollato il tempo! È un essere troppo divino! Boh ragazzuoli! Io ho messo alcune unità! Ho fatto numero! È un bel numero grosso! Penso che così possiamo farcela dai! Con tante tante unità! Che facciano casino! Che distraggano! Appunto! Ecco dai così! Dai buttatelo giù! Lo scudo deve andare giù! Per forza! Ok! Ok! Dai! Dinami tardi! Picchiatelo! Perfetto! Perfetto! Oh! Ci è andata molto bene questa run! Ora dobbiamo stare solo attento! Al semidio qua! Guardatelo! Ora si trasforma! Ora si sta per trasformare! Buttatelo giù prima che si trasformi! Prima che si trasformi! Ecco! Questo è il problema! Ok! Però è ora da solo! Ora è da solo! Non può farlo per sempre! Dai! Buttatelo giù! Dai! Perché lui ferma il tempo! E questo è il problema! Dobbiamo colpirlo mentre il tempo non è fermato! Buttatelo giù ora! Giù ora ragazzi! Dai! Non può colpire comunque tutti! Guardi come ferma il tempo! È un infame! L'abbiamo sconfitto però! Secondo me la perdo male! Ok! Ho messo tante unità a caso! Tutto è un po' con la loro potenza! Scudi! Abbiamo un po' di tutto! Però voglio provare così intanto! Allora! Ci ho messo il serpentello che dovrebbe andare abbastanza bene! Oh cavolo! Oh cavolo! Oh cavolo! Tiratevelo via di dosso qualcosa! L'importante è tenere lontani sti dannati elefanti! Sono i dannati elefanti che sono un problema! E poi la divinità dietro! Che crea casini! Cavolo! Cavolo! La divinità sta aiutando gli elefanti! Oh no! Oh no! Guardalo! Ha fatto un 360! St'elefante ha fatto un 360! Però sono tutti morti! Dai! Ce la possiamo fare! Ha fermato di nuovo il tempo! Non va bene! One shot one kill! Colpiscilo! Ok! L'ho colpito! L'ho colpito! Avventuriero! Ho colpito l'avventuriero! E mi ha fregato male! Dai Gandalf! Tu sei l'unico che può resistere! Sì! È ancora resistito! Vai Gandalf! Non la spazio! Bene! 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 Ci godo! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Ora è finita la campagna! No! No! Sean! Ok no! Urca! Urca! La potenza degli urchi! La potenza degli urchi! Gli urchi saranno i primi! Vai! 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 Come li butto giù! Con una bella meteorite! Prima che si evolvano! Si sono evoluti! Tiragli una pietra! Pietra tombale! Pietra tombale! Vai! Troppi urchi! Troppi urchi! Troppi urchi! Non ce la farete! Troppi urchi! Troppi urchi! Troppi urchi! Sìììì! Che vittoria! Incredibile! Il numero fa la forza! L'abbiamo visto! E così abbiamo completato la campagna! Ora vabbè ci sono altri livelli a musso! Ora finalmente posso usarle io le varie unità! Guardateci, oh che bello Il retto paladino Mamma mia, ho fatto bene, ho fatto bene Guarda qua, unità divina Andiamo subito a vedere come va Dicevo, oh cavolo, oh cavolo Dai digivolbiti, digivolbiti Perfetto E ora mentre sono un divino Posso attaccare ed usare La sua potenza Sì sì, tiratemi quello che volete Intanto io lo schivo e rallento il tempo E vi ammazzo lentamente 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 gli metto gli uni Oh cavolo, oh cavolo Ci hanno provato, ci avete provato Mamma mia, cioè immortale Gli uccisi entrambi, li uccisi tutti Solo, ahia, gli urchi burchi I dannati urchi burchi Che però non mi sconfiggeranno mai Perché ora, boom, cannone là Troppo forte Troppo forte Mamma mia, ok ragazzi Per oggi mi fermo qua con questa cosa Ma volevo, come promesso, andare nella modalità Multiplayer E provarla Ok, una partita rapida Cerchiamo una battaglia contro uno a musso E vediamo che succede Ok ragazzi Siamo più 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 contro flamey Abbiamo 2000 a testa Usiamoli bene Mi sa che sono contro un pro Ok, allora Mettiamo un po' di unità Lui, anche lui sta mettendo Eh, lui usa quelle divine C'è un infame Va bene Va bene, va bene Allora io anche io metto Un giudice divino Metto Poi adesso da quello che abbiamo imparato Non so quanto tempo ho Da quello che ho imparato Devo usare tante, tante unità Noi abbiamo visto che Mettendo tanti, tanti, tanti numeri Quindi mettendo Secondo me si caga addosso Adesso che vede tutte le unità che metto Ah, non posso usarle tante Ah, 20 massimo Ok Allora se sono 20 È un'altra storia Wait, 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 wait Se sono 20 Allora Un mammut E Un po' di questi Un po' di questi Facciamo un po' più un numero Poi ancora tre di questi Che rallentano il tempo I giudici divini Quelli sono molto forti Quelli sono molto forti Quindi Direi di metterne Un po' di più Ok Mettiamo altri di questi E Poi dei clavatori Non so Ho finito i soldi Proviamo 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 Sì Vai, vai Tirateli le bestie Tirateli gli esplosioni Buttateli giù Dai ragazzi Ce la possiamo fare Il libro Potere del libro Il potere del libro Dai ragazzi Il potere del libro Sì il potere del libro Il potere del libro L'ho massacrato Vittoria Collai Ti ho massacrato Il potere del libro Lo sapevo che era forte Lo sapevo Battutissimo Battutissimo Mi spiace Eh Ti stai cagando addosso Vuoi di nuovo riprovare Eh Ora la cancelli Vediamo un po' che fai Oh Anche lui ora ha scoperto La potenza del libro Bene Io metterò un mietitore C'è anche il potere Il male C'è Uh Non li avevo viste Queste unità del male Aiuto Ok Ok Il bene a quanto pare Però è un po' più forte Qualche libro Ce lo metto sempre Il libro è Il libro è tanta roba Guardali Guardali E il carro armato Ammesso Quelle cheerleader È un pazzo Ok Metterò anche degli egidi celesti Che hanno lo scudo Che fanno bene Proviamoci dai Vediamo un po' che succede Il carro armato è potente però Vediamo che succede Guardali Guarda quei fulmini Guarda Guarda il carro armato Arriva E sfonda tutto Ci sta prendendo sotto Glielo ho fatto saltare in aria Glielo ho fatto saltare in aria Comunque Dai il libro Vai col libro Mamma mia Guarda questo Vi spacco tutti Altro che cheerleader Guarda come ventro Mezzo a lui Non ha pietà Vinco sempre Ciao Sono troppo forte Potere arcano Sono too much strong Vittoria È troppo bello Online è bellissimo Sto gioco È troppo bello È rage Quintà Va bene ragazzi Per questo episodio era tutto Mi sono stato divertito Fatemi sapere cosa ne pensate Nel prossimo andremo a sbloccare tutte le unità E faremo altre partite online Magari con il buon telone Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao ragazzi